Eccoci, buonasera ragazzi, grazie per essere in questo Facebook Live. Allora, 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 il valore del sì e del no è un argomento che è venuto su molto dinamicamente nell'ultimo periodo e ho iniziato a rifletterci parecchio in quanto spesso ho evitato di avere chiarezza su quando dire di sì, quando dire di no e ho avuto difficoltà a avere chiarezza e esprimere ciò che provavo di fronte alle persone. Sono sempre stata una che cercava di compiacere gli altri, di dare il contentino oppure di fare lascia che vada bene per loro, io dopo tutto posso anche accontentarmi, oppure lascia che vada tutto bene, che vada bene per le persone, io vengo all'ultimo posto. E questo ha limitato tantissimo quello che potevo creare nella mia vita e mi sono limitata parecchio, non permettendomi di essere chiara a me stessa e soprattutto essere chiara a me stessa e di conseguenza con le altre persone. E ho realizzato che ho creato cose molto strane, cercando di evitare di dire esattamente ciò che provavo e creavo situazioni anche più difficili pur di non dire chiaramente di sì o no. e c'è tanta carica perché molto spesso tanti di noi, soprattutto chi dice di essere buono oppure chi non vuole dare dispiaceri, si mette all'ultimo posto non realizzando che non solo fa un torto agli altri ma soprattutto fa un torto a se stesso perché non crea la vita che desidererebbe oppure non crea dinamicamente ciò che vorrebbe e poi si chiede perché è così frustrato, perché le cose non funzionano come andrebbero, come vorrebbe e come mai c'è questa situazione costante di insoddisfazione e di malcontento nella sua vita. E ho realizzato questo per quanto mi riguardava e ho detto wow! E se iniziassimo a partire proprio dal sì e dal no, al di là di ogni processo, al di là di ogni strumento straordinario ma cosa c'è dietro il sì e il no? Quanti universi strani abbiamo creato, quante situazioni strane abbiamo creato e dinamiche strane abbiamo creato pur di evitare di dire sì chiaramente e no chiaramente, quando percepivamo di dirlo. Ecco, come sarebbe avere la potenza e essere noi stessi di fronte a dare risposte semplici come sì e no? Come sarebbe non creare più dinamiche strane o cose pazzesche pur di evitare di dire sì e no? E tutto ciò che viene su, distruggiamo e scriamo! Poi da in poca tutto questo ragazzi e come sarebbe reclamare, impossessarci della nostra potenza e non diminuirci più di fronte alle altre persone. Perché diminuendoci non facciamo favore né a noi né tantomeno agli altri e eviteremo di creare contrazioni, frustrazioni, addirittura disturbi e persino malattie e cose strane nel nostro universo. Mi chiedo, quante cose hai creato a tuo favore pur di non avere chiarezza e la sincerità e l'onestà con te stessa e con gli altri nel dire sì e no? Quanto hai detto di compiacere gli altri mentre in realtà stavi diminuendo le possibilità sia per te che per gli altri? Ecco, vorrei invitarvi a imbarcarvi in questa esplorazione e questa esplorazione del sì e del no. Sbloccare, qualora ci fosse qualcosa da sbloccare, più che altro potenziarci ad avere la potenza, l'onestà e la sincerità verso di noi e di conseguenza verso gli altri a dire sì e a dire no. Questi argomenti verranno trattati in una telecall che terrò questi giorni, il 17 e il 18, quindi già domani e dopo domani e entrambe saranno di un'ora. Si potrà partecipare sia alla call del sì che alla call del no, potete scegliere una delle due o addirittura entrambe a uno sconto pazzesco. Mi chiedo quale invito sareste per voi e per la creazione di quello che desiderate avendo chiarezza e avendo la potenza di dire sì e no. Cara dice, è come assumersi la responsabilità nello spazio di verità per noi con queste due parole. Esatto, esatto, cara. E tutto parte da lì e ogni scelta ha un sì o un no, ogni domanda per quello che si richiede un sì o un no, come sarebbe avere chiarezza su ciò che è sì e ciò che è no? E magari qualcos'altro che richiede un'altra domanda per avere chiarezza su cosa dire? Come sarebbe avere chiarezza anche nei confronti delle altre persone? Come sarebbe non diminuire ciò che percepiamo a favore di quello che vorrebbero gli altri? Mi chiedo, crea di più o di meno questa cosa? Ok ragazzi, questa è stata una cosa breve, un Facebook Live abbastanza breve, ma per chi è nel gruppo di iPod ci vedremo anche lì alle 10 e intanto metto il link nei commenti con il link dell'evento e avete lì tutti i dettagli per registrarvi, è molto facile. E la Telecall si terrà su Zoom, quindi avremo modo di interagire, avrete modo di fare le domande e chissà come possiamo giocare, cosa possiamo aggiungere in questo spazio di esplorazione. Laura, mi sale tanto l'espansione e libertà. Anche a me vuole veramente, cioè, veramente ho questa esigenza del dire basta, cioè è proprio un bisogno e strappo, poi ne parleremo anche di questa cosa. E veramente, quanto più cambiamento e differenza possiamo creare nel nostro universo, nell'universo degli altri, avendo chiarezza su cosa dire, non dire, cosa volere, non volere, cosa desiderare, non desiderare. Vorrei esplorare questa cosa insieme a voi e non vedo l'ora sia domani. Un abbraccio ragazzi e spero di vedervi domani e un abbraccio, ciao!